Ecco, non girare verso il sole, gira dall'altra parte che è meglio, bravo, perfetto, perfetto, un po' più di gas, secondo me benissimo, giusto per toglierlo dalla manovra, ecco, un po' di gas e poi lo togli, il gas glielo dai solo per farlo entrare e uscire veloce da una manovra, ecco, poi lo togli e continua a volare tranquillo, benissimo, girò pure un po' più qua verso di noi, va? Non così là, noi lo vediamo, ma dopo poco non lo vede, vieni qua, vieni qua verso di noi, bravo, vieni, 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 perfetto, perfetto, ma che bello, magnifico. Ahaha. Bello, bello, verso di noi, verso di noi, verso di noi, come va? Va benissimo, veramente, ma veramente. Ecco, bravo, bravo. Ma tu metti un po' di gas? Sì, certo. È scorto. Ha, ha, ha. Ma quanto è lontano dal sole? Adesso fra un po' lo prendo io, eh? Ci scommettevo. Ci scommettevo, non è eterna, la batteria è leggero, è piccola, la batteria non dura tantissimo. Un commento, Julian? Ciao. Julian, allievo pilota? Un commento a caldo? Allora, presentiamo il commento del maestro. Julian veramente sta superando tutte le mie migliori aspettative. Sembra veramente dotato per questo hobby, per questo sport. Per intanto lo seguo, ma non ho dovuto intervenire, non ho dovuto fare assolutamente niente. È veramente un ottimo allievo. Facciamo atterrare? Facciamo atterrare. Prendo. Guarda Julian cosa fa. Facciamo a fare un consigliere. Mi hai eser? Spera sulconomic. Se saroni venire con una minuta. Grazie a tutti.